Montelupo Fiorentino Provenendo da Firenze Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti Sulla Statale 1 Aurelia Scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est I treni Ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento La linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro Buon si Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio